Si chiamava Santina Duco, 62 anni, originaria di Noto, la vittima dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera tra un'automobile e un treno in contrada a Zupparda, all'altezza del passaggio a livello. È grave, ma non in pericolo di vita, il compagno, 47enne, che si trova ricoverato all'ospedale di Maria Diavola. L'uomo, che è indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario, è stato sentito dagli agenti di polizia di commissariato di Noto, che insieme con il magistrato e la procura, Francesca Eva, stanno cercando di ricostruire l'incidente tra l'automobile su cui viaggiava la coppia e il treno. Gli inquirenti hanno accertato che l'auto è rimasta chiusa tra le sbarre del passaggio a livello e il 47enne, dopo essere uscito dal mezzo, avrebbe provato a destare l'attenzione del conducente del treno che ha poi travolto il veicolo dove è rimasta dentro la donna. È stato sentito anche il macchinista, che ha assicurato di non avere potuto fare nulla per fermare il treno, ma nel corso della nottata sono state interrogate altre persone che si trovavano a bordo del convoglio per cercare di ricostruire la dinamica di questo incidente. La tratta ferroviaria è stata liberata, mentre i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.